Il fondamentale è che sappiate fare i passaggi quindi questa è l'equazione, filmi la lavagna questa è l'equazione, la manipolo così poi scrivo l'equazione di differenziarli formalmente è come se moltiplicassi ambe le lati per differenziare il tempo non dico la voce alta in presenza matematica e poi qua separo le variabili qua ho separato le variabili ho messo a sinistra tutto che concerne la corrente lasciando a destra quello che... certo la corrente dipende implicitamente dal tempo però metto a sinistra quello che dipende esplicitamente dalla corrente e lascio a destra quello che non lo fa e rimane uno di qua, d'accordo? quindi ho diviso per questo, per intenderci chiaramente è una divisione tra l'altro legittima a patto che la corrente non sia mai proprio uguale, che la corrente moltiplicata per R non sia proprio uguale a 0 cioè questa divisione la posso fare se il numeratore diverso da 0 quindi state già usando l'idea che la legge non basta, c'è un pezzo in più a questo punto, avendo separato le variabili integrate, fate così qua è integrata nel tempo, qua è integrata nella corrente quindi questo è all'istante iniziale all'istante generico mettete un'apice qua state integrando nel tempo da 0 al t generico state integrando nella corrente dalla corrente iniziale alla corrente generica dalla corrente in un istante generico quindi mettete gli apici qua qual'è la corrente iniziale nel nostro esercizio? l'esercizio è che parte da 0 quindi per noi questo vale 0 chiaramente questo integrale più stupido vale t e tutto il lavoro è su questo integrale qua faccio un cambiamento di variabile chiamo questa roba z ecco qua avendo fatto un cambiamento di variabile qual'è il differenziale di z? il differenziale di z è meno r per il differenziale di i quindi questo differenziale di i la scrivo in termini di differenziale di z quindi ho meno 1 su r per il differenziale di z quindi questo meno 1 su r mi esce fuori dall'integrale dove avevo già estratto tra l'altro la l quindi ho il meno che viene da la l diviso r e ho l'integrale in z di 1 su z e l'integrale indefinito di 1 su x è logaritmo naturale di x quindi logaritmo naturale di z però voglio fare l'integrale definito tra gli estremi e gli estremi sono la z iniziale e la z generica la z iniziale è il valore di z all'inizio ma z cos'è? z è v0 quindi all'inizio quanto vale z? all'inizio la corrente è 0 e quindi all'inizio z è proprio v0 z è 0 è uguale a v0 perchè per noi la corrente iniziale è 0 d'accordo? quindi ho meno l su r logaritmo naturale del valore di z generico diviso il valore di z iniziale questa roba qua è uguale a cosa? è uguale a t quindi faccio un po' di manipolazione faccio l'esponenziazione per fare la funzione inversa al logaritmo naturale e ottengo per l'appunto questo qui che può essere molto facilmente riscritto per ottenere i che era la domanda ed è la solita formula vedete questa è la corrente asintotica alla quale il circuito arriva avendo abbastanza tempo per arrivarci un'infinità di tempo e c'è un tempo caratteristico che non coinvolge ovviamente il segno meno tempo caratteristico e questo è l'inverso di quella roba là quindi questo lo scrivo come è al meno t diviso tau e tau è l diviso r certo un giapponese avrebbe difficoltà, no? l diviso l uno prende l'appunto d'accordo? se il tempo caratteristico è questo allora dovete immaginare un circuito che ha la stessa batteria due circuiti due circuiti hanno la stessa batteria l quindi stessa forza ottrice chimica hanno la stessa resistenza però ha diversi valori di L diversi valori del coefficiente all'istituzionale E quando chiudete l'interruttore che la curva della corrente effettiva del tempo è diverso all'aumentare di L il tempo caratteristico è più lungo e quindi l'esponente sale cioè la funzione uno meno esponenziale decrescente sale con più fatica diciamo così con un linguaggio colloquiale un circuito con un piccolo valore di L sale più rapidamente un circuito con un grande valore di L sale molto grande e sale e impiega molto tempo a salire quindi L vedete che gioca il ruolo della massa è una specie di palla di piede al circuito quando chiudete il circuito cosa ha detto? palla al piede palla al piede non palla al piede palla al piede quando chiudete l'interruttore questa induttanza sta remando contro un piccolo valore di induttanza e il circuito sale su quindi affinché il circuito andasse su dritto cioè che fosse l'ingenua legge di Ohm sembrerebbe che l'induttanza fosse zero e trovo molto suggestivo silenzio per cortesia dai se siete stanchi o distratti andate via io sono qua a sudare per voi se non vi interessa andate via quindi esigo un po' di silenzio lasciamo perdere il proprio rispetto quello lo so far rispettare se qualcuno mi manca il rispetto lo trovo nel parcheggio se volete sto scherzando? se volete sto scherzando? se volete sto scherzando? dov'è che lo assalirò? nel parco, nel parcheggio, sotto casa, nelle aule nell'ascensore cosa stavo dicendo? vedete? mi fate perdere il filo cosa volevo dire? cosa volevo dire? ah! suggestivo! la L gioca il ruolo della massa e la R gioca il ruolo di B B è il coefficiente di viscosità del fluido quella forza viscosa era una forza dissipativa era un termine che faceva sparire energia meccanica di qualità e la degradava in energia termica che è di bassa qualità quindi la forza viscosa è una forza d'attrito che non è conservativa dissipa energia e vedete che la resistenza fa la stessa cosa dissipa energia quindi il parametro dissipativo nella caduta del grave era il coefficiente di viscosità qual è il parametro dissipativo in questo circuito? è il valore di R andiamo avanti con un altro pezzo allora questa è la solita batteria questo è il solito comportamento resistivo del circuito concentrato o comunque distribuito silenzio un certo numero di volt forza di potrice chimica questo è un certo numero di ohm adesso immaginate che qua ci sia un condensatore ok? allora a rigore qualsiasi circuito ha un comportamento induttivo perchè c'è l'autoflusso eh? ma se non metto una solenoide o qualcosa che aumenti in maniera estremamente importante l'area efficace posso immaginare che il comportamento induttivo che c'è sia molto piccolo quindi io sto immaginando che questo sia molto piccolo e che domina l'effetto resistivo e capacitivo quindi voglio discutere questa specie di circuito ipotetico in cui lo ridisegno in cui, anzi non lo ridisegno sono troppo stanco in cui faccio così non c'è un induttore non c'è un solenoide però voi dovete essere consapevoli specialmente gli elettrici di voi che questo circuito anche se non l'ho disegnato ha un comportamento induttivo come qualsiasi circuito ma è piccolo quindi non lo sto includendo in questo modello voglio solo trattare un'equazione differenziale molto semplice che modellizza il comportamento di circuito di questo tipo mettiamo il solito interruttore quindi inizialmente shhh silenzio inizialmente quel condensatore non è carico non ci sono cariche su questa piatta e non ci sono cariche negative sull'altra benché ci sia una pompa di carica che non vede l'ora di portare delle cariche positive qua e togliere cariche positive da qua quindi togliendo cariche positive questa diventa negativa questa accumulando cariche positive diventa positiva aggiungo una carica, tolgo una carica quindi avrò sempre una carica uguale opposta su queste due piastre ma appena chiudo l'interruttore però per il momento e scarico quel condensatore a t uguale a 0 chiudo l'interruttore shhh cosa succede? allora la legge di Ohm ingenua ci dice V0 uguale IR ma quella ingenua l'equazione appropriata è questa la forza di motrice chimica poi devo aggiungere quel contributo che viene dal condensatore come lo metto? allora cosa abbiamo detto del condensatore? cos'è la capacità? perchè questo condensatore avrà una certa capacità che prenderà da come è fatta il condensatore per noi sono due elettrodi con accoppiamento capacitivo completo quindi c'è ogni linea di campo che vada uno va a finire sull'altro se uno ha una carica l'altro ha meno carica quindi è induzione elettrostatica completa la capacità che diavolo è? per definizione il concetto di definizione semplice che do io è la carica che per l'appunto c'è positiva su una piastra negativa sull'altra divisa diviso la differenza di potenziale che c'è tra una piastra e l'altra quindi la differenza di potenziale tra le due piastra cos'è? è uguale a Q diviso C d'accordo? quindi tenete a mente Q diviso C è la differenza di potenziale dove c'è una carica Q su una piastra e carica meno Q adesso inizialmente l'interruttore è aperto lo chiudo la batteria pompa una carica positiva di qua ed estrae una carica negativa di là quindi ci va una carica Q qua e una carica meno Q una carica positiva e qua c'è una carica negativa cioè un'assenza di carica positiva ok? prima carica è stata facile mettere seconda botta arriva un'altra carica positiva che sta arrivando però lui viene rispinto dalla carica positiva che già l'ha è più faticoso mettere la seconda carica è ancora più faticoso mettere la terza quindi più carica c'è più difficile è aggiungere delle altre quindi la legge di Ohm io scriverò così meno Q diviso C questo meno mi rappresenta la difficoltà di aggiungere ulteriore carica al condensatore di far crescere la differenza di potenziale diciamo che c'è una differenza di potenziale qua che vorrebbe far circolare la corrente in direzione imposta perchè qua vedete io sto accumulando cariche positive quindi questa piasta qua è un potenziale più alto di questo quindi questo invece ha il potenziale più alto di questo quindi vedete il potenziale di questo vorrebbe far girare la corrente in questo verso invece la pompa chimica sta facendolo così c'è una competizione c'è una competizione il condensatore non vuole essere caricato preferirebbe scaricarsi cioè lui vuoi nel raggiungere il potenziale di questo dovete sollevare sempre più carica questo si inalza dovete cercare di capire questo segno meno segno meno cosa? Q su C perchè quello che è la differenza di potenziale è il capito del condensatore Q su C quindi questa è l'equazione ovviamente I cos'è? tutti dovrebbero sapere che I è la derivata di Q rispetto al tempo non vi pare? quindi in realtà l'equazione è questa e siamo alla solita equazione la stessa equazione della caduta di un grave in un fluido viscoso o di un induttore che dove uno sta cercando di far passare una corretta verso un induttore quindi se la carica iniziale qua se la Q ha t uguale a 0 vale 0 qual'è la soluzione di questa equazione differenziale che è un'equazione del primo ordine quindi fate così è un'equazione del primo ordine lineare ma non è omogenea quindi avete due strade o la omogeneizzate e usate le soluzioni esponenziali oppure fate la separazione delle variabili che abbiamo appena fatto e anche l'abbiamo fatto qualche settimana fa o la settimana fa ormai e questa è l'equazione e la soluzione che ha la condizione iniziale che la carica iniziale ovvero la carica t uguale a 0 sia a 0 cos'è e che aspetto ha? la soluzione è questa il grafico è questo la soluzione Q di t è uguale a questo è Q in funzione del t la carica parte da 0 cresce del solito modo 1 o meno l'esponenziale decrescente arriverà a un valore asintotico con un certo tempo caratteristico quale sarà il valore asintotico? quindi pensateci se questo rappresenta la differenza di potenziale qual è la differenzione di capacità? la capacità è la carica diviso la differenza di potenziale se io vi chiedo quanta carica a quale carica arriverà la carica a cui arriverà sarà C per V0 dove V0 è il valore di questa capacità quello sarà il valore asintotico e il tempo caratteristico cosa sarà? sarà R per C quindi l'equazione è ACV0 1 meno E alla meno T diviso RC e 1 per ispezione vede che appunto se io intendo scrivere così T diviso Tau vedo che la Tau è uguale a non mi credete risolvete l'equazione dunque è finita la lezione magari la faccio questa è la soluzione imparate a risolvere queste tre equazioni caduta di un grave un fluido viscoso lineare caricamento di un condensatore e far circolare una corrente in un condensatore quindi voi riuscite a caricare la capacità ma quando arriva a questo valore qua quindi assolutamente ci arriva arriva a questo valore e vedete che la carica non cambia più se la carica non cambia più vuol dire che la corrente cessa di circolare giusto? potrei infatti chiedermi calcolate la corrente in questo circuito qual è la corrente in questo circuito? la corrente è questa no? e qual è il grafico bom qual è il grafico della corrente? qual è il grafico? lo lascio a voi pensare se è la derivata di questa funzione però potete vederlo qualiteramente qua la corrente non è 0 poi la corrente sta diminuendo perchè la corrente è la derivata di questa curva la tendenza è la retta tangente e a un certo momento la tendenza della retta tangente è praticamente a tendenza 0 la corrente lo cambia più quindi sarà un esponenziale decrescente d'accordo? quindi inizialmente la corrente è importante poi però è sempre più difficile caricare il condensatore è sempre più difficile caricare il condensatore ma notate che come in questo modellino in questa formuletta non c'è il comportamento induttivo e il comportamento induttivo non gli piace variazione di correnti cercherà di rimare contro no? e quindi la corrente che è da 0 tutto lontano avete una corrente non è molto realistico perchè ci sarà un comportamento induttivo la corrente sarà inizialmente 0 e magari ci arriva su è più complicato quindi questa è una idealizzazione trascurando l'importanza dell'induttanza il circuito vero sarebbe cosa? con un'induttanza non vi pare? eccolo qua trac 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 qua c'è l'interruttore questo è più realistico perchè ogni circuito ha un'induttanza capite? dovete capire che questo non è realistico perchè contraddice quello che ho fatto ad esempio poco fa che la corrente sta cambiando bruscamente quindi avete una grande variazione di flusso di campo magnetico e il circuito reagirà non vi lascia mica farlo quindi questo è una idealizzazione il circuito reale dovete entrare a conto di questo effetto chiaramente scriviamo l'equazione di batterapesca di Ohm generalizzata e questo si scrive puntualmente no? e sarà la V uguale IR quindi abbiamo la V0 meno, qual è il primo che incontro? ovviamente questo è scritto a destra sempre IR quindi scrivo Q diviso C poi ho l'incutanza con L derivata di V uguale a cosa? IR ok? queste sono le forze elettromotrici questa è quella chimica questo è il condensatore che vorrebbe scaricarsi quindi si oppone ad essere caricato e questa è la legge di Faraday-Lenz no? questa è l'equazione e chiaramente vedete che questa è la derivata di Q rispetto al tempo questa è la corrente anzi piuttosto si fa così che lo odiano lo faccio sotto quindi ho porto tutto quello che riguarda la corrente o la carica da un lato e lascio V0 dall'altra quindi ho la L la derivata seconda della carica rispetto al tempo più R per la derivata della carica rispetto al tempo più Q1 su C per la carica uguale V0 ok? e vedete questa è un'equazione questa è un'equazione lineare per secondo ordine vedete la derivata seconda e non è omogenea perché c'è la V0 d'accordo? e questo potrebbe rappresentare per esempio l'analogo di questo è il bungee jumping dove avete il comportamento elastico avete il comportamento dissipativo perché c'è l'attito che è l'aria e avete la forza peso che è un termine che rovina l'omogeneità ok? d'accordo? ma facciamo la versione semplice immaginate che questo condensatore io mi ricordo che il mio docente di fisica tanti anni fa quando ero un po' più piccolo piccolo faceva degli scherzi in classe lui caricava dei condensatori quindi i studenti arrivavano e poi buttava il condensatore allo studente in cui lui non reagisce perché è addormentato e voi essenzialmente prendete la scossa quindi io immagino di avere un condensatore carico è stato caricato quindi qua c'è una certa quantità di carica qua c'è una carica negativa qua c'è un induttore il comportamento aduttivo qua c'è il simbolo della resistenza quindi qua c'è della carica già accumulata perché il professore è sadico e c'è l'interruttore d'accordo? a t uguale a 0 chiudete l'interruttore cosa succede? allora qual è l'equazione differenziale? la scrivo qua su perché non voglio ripiegarmi in questo esercizio sarà questa equazione uguale a 0 però non c'è la batteria non c'è la batteria in questa qua è un condensatore carico chiuso l'interruttore si scaricherà non c'è una batteria qua quindi le forze automotrici qui sono solo quella della capacità cioè q diviso c per intenderci e c'è quella della legge di che coinvolge l'induttanza L e quindi qui ho se volete non voglio neanche descriverlo perché è già qua quindi semplicemente trascrivo questa equazione ok? dove uso la rotazione q punto è la derivata di q la corrente e q 2 punti è la derivata della corrente questa è l'equazione non vi ricorda qualcosa? vi dovrebbe ricordare il caso di cui avete questa è la posizione d'equilibrio della massa quindi qua avete non so ecco il vostro tavolo qua c'è la molla che passa attraverso una fatemi fare così va? allora prima questa è la mia che sta di le 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 Quindi questa sia la posizione dell'equilibrio E voi cosa fate? Indietreggiate la massa, ovviamente alluminandolo molla E lasciatela presa D'accordo? Allora come voi dovreste ricordare Quindi l'equazione qua sarebbe mx2. più vx. più kx uguale E vedete che c'è una tabella di conversione La m in qualche modo in questo modo di ragionare Vedete che la l gioca il ruolo della massa Come ho detto la resistenza gioca il ruolo del coefficiente E guardate come la costante elattica Quindi tutto quello che avete imparato Meccanici può essere riciclato nella domanda di elettromagnetismo E viceversa Un elettrico può essere onestamente interrogato In un contesto di meccanica Perchè è la stessa matematica Allora cosa succede secondo voi? Se questa è la carica in funzione del tempo Ho due tipi di possibili comportamenti Uno è di questo tipo qua Dove dalla carica iniziale C'è una certa carica iniziale qua C'è un certo valore di carica Per esempio questo è il grafico della carica Su questo elettrodo qua Ok? Sto guardando quell'elettrodo la Mi sto chiedendo come vale la carica lì L'influsso del tempo Parte da Q0 E potrebbe semplicemente Morire esponenzialmente Oppure potrebbe fare così Oppure potrebbe fare così Faccio un disegno prima Per guidarmi Poi bisogna fare un po' meglio Se non fossi così stacco Faccio un sforzo Poi bisogna fare un po' meglio Se non fossi così stacco Faccio un sforzo L'altro invece è un tentativo Di oscillare Un'oscillazione smorzata E qual è il discrimine? Qual è il... Cos'è che decide se è di un tipo O di un altro In sostanza Qui Avviene Se avete a che fare con numeri complessi Qui Se avete a che fare con numeri puramente reali Perchè per avere un'oscillazione Serve il numero di Aulero E il numero di Aulero E' alla I Quindi c'è un numero Addirittura immaginario Poi se quel numero complesso Ha anche una parte reale La parte reale E' responsabile della lenta morte E' una oscillazione sborzata Infatti questi sono chiamati Inviluppi E sono essenzialmente delle curve esponenziali Decrescenti Ma è la parte immaginaria del numero complesso Che vi da il numero di Aulero Se volete vedere qualcosa che oscilla O pseudo oscilla Avete bisogno di numeri complessi Se non vi piacciono i numeri complessi Cambiate facoltà I numeri complessi sono La matematica delle oscillazioni Meccanici, elettrici Qualsiasi cosa che oscilli Anche in maniera sborzata Ci avete i numeri complessi I numeri di Aulero Onde elettromagnetiche più oscillanti I numeri di Aulero Se non vi piace il numero di Aulero O dal mio corso Mi dispiace molto per voi Ve lo sto facendo posta Perchè lo troverete nella vostra carriera Qui serve qualcosa di complesso Addirittura è la parte immaginaria Che vi da in un Aulero Qual è il discrimine? Cosa si fa? Questo Aulero non è un'equazione omogenea Quindi si fanno le soluzioni immaginarie Allora intanto Dividiamo per L Come qua Dividevamo per M No? Dividiamo per L Dividiamo per M Quindi abbiamo Q due punti Più R diviso L Q punto 1 su LC Q uguale 0 Si prova una soluzione di questo tipo Perchè le funzioni esponenziali Per il momento Non sappiamo se sono esponenti reali o immaginari Le funzioni esponenziali hanno una breve proprietà Che quando faccio la derivata Scende l'esponente Cioè Provo Provo Una soluzione di prova Ovviamente ho bisogno di qualcosa in pieno di tempo E provo così E alla T No! Stupidaggine! Perchè? Perchè questa è una bestialità? Perchè l'argomento dell'esponente deve essere adimensionale Quindi sono costretto a mettere qualcosa qua Che ha la dimensione di un pentola meno 1 Vi ricordate quella lezione? E qua devo scrivere qualcosa che abbia la dimensione di una carica Perchè questo non è adimensionale Quindi la chiamo Che so Q0 Cos'è Q0? E' il valore della carica quando T uguale a 0 No? Quindi Cosa faccio? La Q. Cos'è? E' Alfa Q0 L Alfa T La Q2 Cos'è? E' Alfa al quadrato Q0 L Alfa T Quindi metto questo qua Metto questo qua Metto questo qua E impongo uguale a 0 E cosa faccio? Quella è l'equazione differenziale Scrivo un'equazione algebrica associata a quella L'equazione algebrica si scrive a vista Qua cosa ho? Alfa quadro Alfa quadro Qua ho R più R diviso L Per Q punto E il Q punto è un'alfa Qua ho 1 su più Sti gesti sono terribili Non si cancellano nemmeno 1 su LC Q Quindi la funzione 1 Perchè se volete Ho fatto così Ok? Ho messo in evidenza Vedete che eccolo qua Eccolo qua Eccolo qua Eccolo qua Lo metto in evidenza E questo dovrebbe essere uguale a 0 Ma questo non è mai 0 Certamente questo non lo è Mai, mai, mai E se Q0 è 0 Beh, avete il settore scarico All'inizio E quindi quando chiudete il tenutore Cosa fa? Q rimane 0 per sempre Cioè mentre Q0 è uguale a 0 E' come dire che noia Non succede niente Quindi se volete che succeda qualcosa Q0 deve essere diverso da 0 Questo è sempre matematicamente diverso da 0 Quindi l'unico modo per avere 0 E' che questa rota qua Sia 0 Questa rota qua deve essere 0 Questa è una quadratica Che ha due soluzioni Come sapete bene Quindi Ce l'avete due 1 cosigno più 1 cosigno più 1 cosigno più 1 Dove stanno questi tempi segni? Questo E quindi è meno R diviso L Più o meno radice quadrata Di R al quadrato diviso L al quadrato Meno il famoso 4C A è 1 e C è questa roba qua Tutto diviso 2A Quindi Questa è la soluzione Normalmente la gente porta attenzio 2 Quindi c'è un 2 qua Questo diventa Un 4L quadro E questo 4 va via Ok? Quando è che avete la pseudo oscillazione? Quando è che avete l'oscillazione smorzata? Avete l'oscillazione smorzata? Quando? 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 Quando quella roba là è negativa Avete la radice quadrata e un numero negativo Quindi avete i numeri immaginarii Ed è quell'immaginario che avete E alla I ripeta E quello è un numero che gira Bla 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 Quindi non faccio tutte le cose che ho già fatto Quindi il discrimine è Quando 1 su LC è maggiore di B quadro diviso 4L quadro Avete oscillazioni O meglio dire Sero d'oscillazioni Che caldo Quindi a rigore è un oscillatore armonico Se B è uguale a 0 Cioè B Se R è uguale a 0 Se la resistenza è 0 Se la... Dov'è la resistenza? Qua ho messo B E vedi così inconscio che R è equivalente a B Che ho scritto B no? E' pazzesco Come funziona il cervello? Se la resistenza... Se la resistenza... Se la resistenza è 0 Allora vedete che l'argomento del radicando È negativo Perchè se questo è 0 Questo sarà sempre negativo E quando avete un radicando negativo E' sicuro che avete il numero complesso Ed è un immaginario puro Quindi Quando R è uguale a 0 Avete oscillazioni pure E' proprio un oscillatore armonico Con una frequenza ben precisa Quando invece R è diverso da 0 Non è certamente una cosa che oscillerà per sempre Ma muore esponenzialmente Muore come? Qual è il tempo caratteristico della morte? Lo vedete qua no? Ma questa roba qua vi dà la morte Quindi avete... Quando... Quando... Quando siete in questo regime qua Quindi questa parte qui è maggiore di questa Una soluzione... Per esempio una soluzione di questo tipo Che caso? Q0 è alla meno R diviso 2Lt per coseno omegona t Dove omegona quadro è uguale a 1 su LC meno R quadro diviso 4L quadro Questo è un esempio di cosa potrebbe succedere Se questo è maggiore di quello Avete l'oscillazione smorzata E omegona è questa roba qua Quindi... Per chi sta studiando questo è un ripasso Il tempo tra qua e qua Tra un'andata e un tentativo di ritorno E t uguale 2pi greco diviso omegona E questa è una curva esponenziale decrescente Con quale tempo caratteristico? Questa è la funzione esponente decrescente E quindi questa funzione qui Ha un tau Questa tau della morte Facciamo così Il tau della morte lo leggete qua E 2L diviso R Notate che c'è quel 2 Notate il 2 Nell'esercizio di prima dell'induttore Che qualcuno chiudeva l'interruttore E la corrente dell'induttore saliva Il tau era L diviso R Qua c'è il 2 Da dove viene quel 2? In ultima analisi viene dalla matematica Di questa quadratica Da questo 2 qua Quindi questa morte esponenziale Questa curva entro la quale le oscillazioni avvengono Questo si chiama un inviluppo Questo inviluppo esponenziale decrescente Questa è l'esponenziale decrescente Questo è il suo specchio Tanto per guidarmi del disegno Questa curva esponenziale decrescente Ha un tempo caratteristico che è così D'accordo? Cosa succede quando R è uguale a 0? Non c'è più la morte esponenziale Perché quando R è uguale a 0 Il tau diventa infinito Quindi questa morte esponenziale non avviene E la curva oscilla sempre Come un bravo oscillatore armonico Come si fa tecnologicamente A avere R uguale a 0? Si abbassano di molto le temperature Alcune di voi forse Non si deve parlare Della super conduttività Quindi se voi prendete il circuito E la mettete a temperature Bassissime Forse il vostro circuito Non ha più proprietà resistive E oscillerebbe per sempre E sarebbe un grande risultato tecnologico Se riuscissero a trovare Il modo di rendere i materiali Super conduttivi A temperature un po' più alte Perché è molto costoso avere Temperature così basse Se si riuscisse a sviluppare Dei materiali Che diventano super conduttori A temperature più alte Qualche decina di grado 100 gradi al limite sotto lo 0 Non numeri pazzeschi Ma molto più alti Sarebbe una... Cioè pensate Una corrente non muore Gira, 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 gira E' come abbattere E' come avere la massa Attaccata alla molla E non avere attrito Andrebbe avanti per sempre Ahimè l'attrito dissipa energia La resistenza dissipa energia Quindi riguardate questa matematica Che ore sono? Dieci minuti sono preziosi Allora molto velocemente Poi lo riprendiamo brevemente Martedì Uno dei termini del teorema di Pointing C'era quel termine Vi ricordate questo qua? L'espressione vuota L'espressione vuota L'espressione vuota L'espressione vuota Ricordate questo pezzo? Poi in forma integrale Cos'era? L'espressione vuota L'espressione vuota L'espressione vuota E' un'espressione vuota E' un'espressione vuota Poi in forma integrale Questa è una memoria Questa è una memoria ne parleremo ancora martedì brevemente magari verrò col proiettore perché vorrei andare avanti con un po' di materiale, ma vorrei che questo pezzo può essere scritto in maniera che è familiare a alcuni di voi, vorrei tradurlo, questo è un volume, quale volume, il volume è chiuso adesso, manca il differenziale qua, ovviamente l'integrale di volume, tanto per fissare le idee, uno potrebbe pensarlo come dx, dy, dz, è un volume, ok? Allora, è una traduzione, non è una derivazione quello che sto per fare perché non abbiamo abbastanza tempo, la vita è troppo breve, ma a me spreme che voi capiate che questa formula sta dicendo qualcosa che può essere capito in termini più colloquiali, questo integrale che sto integrando sia in x che in y che in z, immaginate una situazione, dove non so, potrei avere questo, aiuto, diciamo, no ma voglio fare che questo sia le x, e questo è le x, quindi, ecco che, ok? Facciamo una considerazione, è più facile, non cerco di fare giramenti strani, immaginate di avere che so, un cilindro di materia fatta così, ok? Quindi è orientato lungo l'asse x, se volete, d'accordo? È orientato lungo l'asse x. E qua dentro di avere tanti portatori di carica che stanno muovendosi nella direzione x, tutti questi portatori di carica, quindi avete una densità di corrente, quindi il vostro volume è questo cilindro che è orientato nella direzione x, d'accordo? quindi io dico che questo integrale potrebbe essere pensato come fatto dal prodotto di due pezzi, uno integro uno integro in y e in z, e un altro integrale in x, a separati, quindi faccio così, vedo che la mia j, la mia j, provo a scriverlo, vediamo se mi riesco in maniera sensata, faccio un integrale di j, lungo una superficie, e questa superficie per esempio coincide con un piano perpendicolare all'asse x, quindi è un piano in qualche modo parallelo all'asse y, z, e questo qua moltiplico per un altro integrale che invece è lungo la direzione che mi rimane, una cosa del genere, anzi, voglio una traduzione, non voglio stare là a puntualizzare sulla trazione, io integro così, su questa superficie qua, la j, poi mi rimane però da fare ancora un integrale in x, che è lungo il cilindro, questo cos'è? Questa è la corrente che passa attraverso il cilindro, e questo cos'è? Cos'è l'integrale di un campo elettrico su uno spostamento? È una differenza ipotiziale, giusto? Un campo elettrico è uguale a delta v su x, quindi e per delta x è delta v, se integro e per delta x, e per più e per delta x ottengo quindi questo è un delta v, quindi questo pezzo qui, questo pezzo qui, si scrive i delta v, o tante volte semplicemente i per v, o v per i, i per v, qualcuno se lo ricorda? Qual era l'unità di misura del teorema di Ponenty scritto così? Erano watt, no? Questi sono watt, questi sono watt al metro cubo, ma questi sono watt, quindi questo pezzo qui, del teorema di Ponenty rappresenta il lavoro che i campi elettromagnetici, in particolare il campo elettrico, fa nel muovere le cariche quindi quella è la potenza, è la potenza come alcuni di voi forse sanno quando ho fatto un po' di elettronica, ho letto tecnica e i per v, giusto? Quindi quel famoso i per v da dove viene? Viene da qua! Martedì ne commenterò ancora un po', però questo pezzo qua è i per v, i per v, allora torniamo un attimo alla nostra, forse è il caso di questo termine qua, voglio convincervi che è il lavoro, che i campi elettromagnetici che sono qui, fanno per muovere le cariche quindi il teorema di Ponenty mi dice che l'energia nel campo elettrico e magnetico può diminuire per due motivi, perché fuoriesce dell'energia dalla superficie sotto forma di onde elettromagnetiche, ma può anche diminuire perché è speso a far lavoro Il campo elettrico spinge le cariche ma nel far corrente, il campo elettrico nel far corrente, certo che lo fa, perché pensate ai materiali ionici, se avete un campo, avete una corrente, quindi il campo crea una corrente, ma creandola spende energia, e quindi il rato, la diminuzione dell'energia per unità di tempo, dipende dalla potenza che serve per far circolare la corrente, quindi se non ci fosse rilanciamento, già questo mi dice che questa roba qua, per esempio, deve diminuirmi, perché quella roba sarà per esempio positiva, se quella è positiva questa deve essere negativa, quindi se il campo fa lavoro, nello spostare la carica da dove va l'energia che lui ha comunicato la carica, sarebbe bello una infezione questa, se questa è una piastra, e questa è un'altra piastra, e qualcuno, Dio, crea una carica qua, e qua avete cariche positive, crea una carica la, cosa fa la carica? Si muove, no? Si muove, acquista energia, acquista energia, ma da dove la prende l'energia? La prende nel campo, e quindi l'energia del campo diminuisce, nello spostarsi lui acquista energia, ma il campo deve diminuire, perché solo diminuendo diminuisce l'energia, serve bello se io potessi muovere una cosa senza dover pagare la bolletta, eh? Questo mi sta dicendo che far circolare una corrente devo pagare la bolletta, qual è la bolletta? cos'è che pago? Pago una diminuzione dell'energia del campo, il campo diventa più debole, facendo spostare la carica si debolisce, poi si debolirà anche se ci sono onde che portano via ulteriore energia, quindi questa formula dice cosa fa l'energia del campo? Diminuisce se ci sono onde che portano via energia, ma diminuirà se i campi fanno lavoro, questo pezzo qui è il fatto ahimè che dobbiamo pagare l'Enel, o la compagnia elettrica sarebbe bello se io potessi generare energia senza pagare il prezzo ci vediamo martedì